L'Abruzzo si prepara ad ospitare per il terzo anno di fila la Final 8, la Coppa Italia di calcio a 5 che dal 26 febbraio al primo marzo prossimo tornerà a riempire i palazzetti dello sport di Pescara e Montesilvano per assegnare le coccarde tricolori per la Serie A, la Serie A femminile e l'Under 21. Nella manifestazione maggiore in campo ci saranno Lazio, Pescara, Luparense, Asti, Real Rieti, Chaos Futsal, Fabrizio Corigliano e Acqua e Sapone e Megros Montesilvano. Non è mancata questa mattina anche una coda polemica con la mancata partecipazione alla conferenza stampa della delegazione del Pescara Calcio a 5. Siamo contenti di essere a Pescara, siamo contenti di quello che è stato fatto negli anni passati, per questo siamo nuovamente qui. Un appuntamento centrale per il futsal italiano che si trova nuovamente a Pescara e a Montesilvano perché per un appuntamento che vede sia la Serie A, che la Serie A femminile, che l'Under 21, 24 società, le migliori d'Italia, sarà un bello spettacolo. Parliamo un attimo di questa manifestazione, tra l'altro dove ci sono anche alcune formazioni abruzzesi per quanto riguarda la Serie A, Pescara e Acqua e Sapone Montesilvano, che sono due realtà ormai importanti e consolidate del calcio a 5 nazionale. Sì, sono società organizzate, strutturate, di grande impatto anche a livello territoriale e questo ovviamente è importante per l'Abruzzo ma anche per l'intero futsal italiano perché oggi l'intero, come diceva giustamente, sono 2.500 società in tutte le regioni. Qui in particolare il lavoro del comitato regionale diretto da Daniele Ortolano è un lavoro proficuo e soprattutto in profondità, fatto di grande attenzione al calcio a 5 e di questo lo ringrazio. Presidente, per chiudere, prima si parlava dell'Abruzzo come ancora una volta capitale del calcio a 5 in Italia per questa manifestazione, anche perché quando venite qui in Abruzzo riuscite sempre a riempire i palazzetti? Speriamo di riuscirsi anche questa volta.